E' stato un 12 ottobre di celebrazioni a Sansepolcro. Il 530esimo anniversario della morte di Piero della Francesca si è infatti trasformato in un omaggio al grande artista del Rinascimento. Per l'occasione ha riaperto le proprie porte la Casa di Piero ad un pubblico composto di addetti ai lavori, mentre da sabato 22 ottobre sarà aperta a chiunque avrà intenzione di visitarla. Chiaramente le nostre sale sono in allestimento perché vogliamo progettarle con una certa calma e tranquillità, però la nostra soddisfazione è aver allestito già una prima sala dedicata alla vita di Piero della Francesca Sansepolcro con alcuni inediti, alcune opere che provengono dai depositi del Museo Civico di Sansepolcro. Anche perché riguardano Piero, è un ritratto di Piero inedito che non era mai stato disposto al pubblico, gli sportelli del Politico della Misericordia, in attesa di un eventuale allestimento li abbiamo resi disponibili al pubblico. Poi stiamo riordinando un po' il progetto Rificeria grazie anche alla collaborazione del liceo artistico Giovagnoli che ci ha dato in comodato d'uso gratuito i gioielli dedicati a Piero della Francesca. Ed è quella una collezione che avrei intenzione di potenziare coinvolgendo le aziende e orafe anche del territorio. Insomma, un primo importante passo per l'obiettivo che il comune di Sansepolcro sta inseguendo, ovvero il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per la terra di Piero della Francesca. In settimana dovrebbe essere discussa una mozione nel Consiglio regionale, speriamo che si ricordino che anche Sansepolcro porta l'avanti, poi vediamo se non verrà accettato meno, ma perlomeno porta l'avanti in segnale minimo che la politica ci deve dare.